Ma che cavolo è? E bello a tutti ragazzi, bello tornato in questo nuovo video Che perché non è che vi parlo e oggi Siamo su Roblox E scusate se in ogni video Che ho fatto di Roblox Non c'era la mia voce ma io Regine di Sawano ci sono Ci sono i miei genitori e il mio fratello Perché Roblox ovviamente Ha bisogno della rete wifi Quindi non posso farvi sentire tutto il casino Che facciamo Allora Ora non facciamo survival ma facciamo tipo Lo possiamo fare Possiamo di survival McDonald's Taicon Va bene facciamolo raga Play Ok Continuo Dai Non cagli Ok raga sta caricando Continuo 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 Ok Eccoci Allora Allora Cacchio è sua E qual è Cos'è Ecco quella è libera che devo fare Andiamo Andiamo Touch to claim Ok questa è Diventerà la mia Quindi io entro Ok Questo costa 0 E quello costa 70 Aspettiamo che arrivi a 70 dollari Allora raga Ok ma siamo arrivati a 70 E 96 e 96 e l'ho comprato Questo è Allora io vi consiglio di non comprare mai questi due perché Cioè comprate questo perché I blocchi da bianchi li potete fare azzurri, gialli, verdi, rosa, blu, marroni, 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 bla 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 e anche neri Ma questo qua Che costa 650 Non serve un cacchio E quindi io non lo consiglio Allora 109 Bene 750 Fighi Cacchio è Oh raga Un nuovo gioco Attento 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 Fighi che bel nome Attento Oh stai attento C'è un mostro attento Aiuto C'è Vabbè Ok Quindi io Posso comprare No aspetto altri money E lo accomodo comunque Che bello Che figa il mio personaggio è Vabbè Acab 70 Prendiamoli Ok E andiamo a vedere gli altri Così almeno si faranno i soldi Allora Allontaniamo molto il visuale Ok Passiamo in 4 1 2 3 e 4 Si Va bene Acab Ovviamente Ovviamente Zita Ovviamente quando faccio i video Il cane si deve sempre mettere ad abbagliare Ma che bello Che bastardo Vabbè Conti soldi è sto qua Cookie crunch 700 addirittura Sti cavoli Vabbè Andiamo a vedere la mia Anzi no Questa qua Ti devo chiedere l'amicizia Per forza Vabbè Dovevo farlo Raga mi dispiace E adesso ha voglia di andare A casa 1.000 Buia mega dropper Sto scherzando 400 Va bene Ah no E' al 500 Va bene Vabbè Aspettiamo che arriviamo Al 1.500 Raga Fighi Che bella data Ok Raga Abbiamo superato Di un bel po' Il 1.000 Però va bene Siamo già 6.000 Però chi se ne frega E Compriamo Buia mega dropper E La E questo E non so che cavolo Ah Va bene Anche questo Va bene Va bene Va bene Continua 5.000 5.000 Sti cacchi 1.000 No 5.000 McDonald's logo Che swag Buia mega dropper Buia ropper 2 Addirittura Va bene Aspettiamo che arrivano Altri più soldi Oh Raga 9.000 Addirittura C'è 9.000 Minchia Buia ropper Buia ropper In che senso Che dato Niente Buia ropper 3 Niente Vedete Dai Buia McDonald's Single Che swag Guardate Ti faccio vedere 500 Guardate Adesso Lo faccio Nero E Modano Neri Faccio L'azzurro Azzurri Una figata Vabbè Buia McDonald's Cave Singer Figo Buipillar Se ci sta E buia Entrance Entrance Eh Entrance Vabbè Le battute Di Pro Gamer Non ci stanno Ok Ok E sì Vabbè Come Se avessi Tutti sti soldi Madonna Ste cazze Di mosche Vabbè Andiamo a vedere Se abbiamo Molti soldini Soldini In tasca Chi li vuole I soldi In tasca Vabbè Basta Le scemate Di Pro Game Mille Addirittura Ok Ok raga Ehm Ehm Andiamo E qui Dobbiamo comprare Anche I tavoli Di Uno Due Malevoti Guarda Che mi Bomba Fighi Tre Ehm Ehm Ancora Ah Mi ha cacciato fuori dal mio ristorante Ma Grazie Ma anch'io ti voglio bene Vabbè È un pillar Si sgama così Anche Però Vabbè Andiamo a vedere E vabbè Ragazzi Per questo video è tutto Ricordati di share un like Commenti E non ci becchiamo Al prossimo video Bella riga